Il primo settembre si avvicina e gli ex percettori del reddito di cittadinanza potranno presentare la domanda per il supporto per la formazione e il lavoro, il nuovo strumento di sostegno alla povertà del governo. Avendo i requisiti per accedervi, essi potranno essere avviati a un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo, durante il quale per i complessivi 12 mesi potranno ricevere un contributo di 350 euro mensili, a ricordarlo in una nota è Francesco Baggetta, direttore della Confesercenti Calabria. Come spiegato dalle disposizioni IMSS, infatti, per accedere all'SFL è necessario, oltre alla presentazione della domanda, sottoscrivere il patto di attivazione digitale, contattare almeno tre agenzie per il lavoro, sottoscrivere il patto di servizio personalizzato, avviare un'iniziativa di attivazione al lavoro, come indicato nel patto di servizio. A fare la differenza sono le iniziative, continua il direttore Baggetta. Per ottenere i 350 euro al mese, il richiedente dovrà partecipare alle attività, che possono essere dei corsi, in parte online, obbligatori e gratuiti. Confesercenti Calabria, attraverso il suo ente per la formazione e i servizi Confesercenti Calabria Servizi SRL, è tra i beneficiari del programma Gol Regione Calabria, con un'offerta formativa di otto corsi professionalizzanti, suddivisi tra le due sedi accreditate di Cosenza e Castrovillari.